Lo sport per me è sempre stato divertimento e gioia. Il badminton è da tanti anni un'avventura e l'impegno è stato subito fondamentale. Per arrivare al traguardo sono necessari tanto sudore e tanto allenamento. Mentre i miei amici passeggiavano io mi dedicavo alla mia passione e ho avuto il coraggio di inseguire il mio sogno, fino ad arrivare a vestire la maglia azzurra. Il badminton è bello perché abitua ad un vero, sincero e genuino contatto con gli altri. In un mondo spesso dominato da incontri virtuali può aiutare a costruire una migliore cultura e rispetto dell'amicizia. Lo sport è un modello di vita e credo che tutti i giovani abbiano il diritto di praticarlo serenamente, senza pressione e senza l'obbligo di diventare campioni ad ogni costo. Hanno il diritto di arrivare ultimi, con gioia, sapendo di aver giocato la loro partita in modo leale e rispettoso dell'avversario e di se stessi.